Grazie a tutti Grazie a tutti Siccome i cessi li puliamo noi Tutte le ragazze presenti sono pregate di non buttare i tampax usati nel cesso Che l'anno scorso per pulire i cessi ho dovuto bere due litri di grappa prima Grazie a tutti Direi che io non sono la persona più indicata per dire che ho messo questa Penso che la cosa migliore da fare sia questa Scusate! 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 Scusate!